il tempo non smette di correre e in tutto questo trambusto noi dovremo provare a prendere esempio del nostro passato per costruire un bel futuro ma dico ma siamo fuori beh a dire il velo c'è una storia che racconta di un piccolo uomo che fece cose meravigliose ma anche obbriosità inimmaginabili da queste ultime però egli riuscì ad imparare a comportarsi bene al punto da diventare re forse addirittura il più importante sovrano di sempre penso proprio che scoprire qualcosa su di lui non possa che giovarci impareremo infatti a migliorare sempre capiremo come agire ci evolveremo cambieremo come il tempo